Ciao a tutti, benvenuti su MyFootballGersi. Io sono Stefano e oggi vi presento la terza maglia dell'Ajax per la stagione 21-22, nella versione player, quella cioè indossata dai calciatori. La terza maglia è tutta nera, con queste rifiniture color rosso, ad esempio nello stemma del club, nel logo dell'Adidas oppure nello sponso. Questa maglia vuole essere un omaggio a Pop Marley, quindi troviamo ad esempio nelle righe adidas oppure nei bordini i tre colori tipici del cantante. Nella mia personale classifica questa maglia prende 5 stelle, il massimo. Secondo me è molto molto bella, poi mi direte voi cosa ne pensate. Ora vi lascio alla parte in cui vedrete tutti i dettagli. Ci troviamo alla fine per le misure, per le misure e la vestibilità. Ciao! Lo stema del club, il logo adidas e il main sponsor nella versione player sono termosaldati. Questa versione è realizzata con la tecnologia Heat Ready. Sui fianchi non c'è nessuna lavorazione, così come all'interno del fascione il colore è sempre nero. Il collo è a V e nel colletto c'è questa lavorazione che adidas ha usato in altre maglie di questa stagione. Le tre strisce adidas sono termosaldate con i colori della giamaica. Sulle maniche sono presenti sempre i tre colori della giamaica tanto cari a Bob Marley. Gli uccellini sul retro sono l'omaggio fatto a Bob Marley e alla sua canzone The Three Little Birds. Anche per questa volta abbiamo quasi finito. Ora prima di lasciarvi la parte in cui vedrete la vestibilità e le misure. Se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg e quella che vedete è una taglia large della versione player. Grazie per la visione!